Un aiuto agli oltreottantenni marchigiani che vogliono mettersi in coda per ottenere il vaccino anti-covid-19 ma che faticano ad orientarsi nel complicato mondo della tecnologia o che non possiedono un computer. È l'obiettivo delle parafarmacie associate delle marche che hanno pensato ad un'iniziativa per tendere la mano agli over 80. Per tutti coloro che vorranno, infatti, è possibile prenotarsi per la somministrazione del vaccino anti-covid direttamente in parafarmacia. Visto che appunto volevamo fare qualcosa di utile e di gratuito per la comunità abbiamo deciso di fare questa campagna di aiuto nei confronti degli ultraottantenni in questo momento perché sono quelli che stanno facendo la vaccinazione ma di tutti quelli anche che hanno difficoltà ad utilizzare il computer per fare la prenotazione per scaricare i moduli per tutte queste cose noi ci rendiamo gratuitamente disponibili e noi appunto gli facciamo la prenotazione gli rilasciamo un foglio nel quale diciamo sia il luogo sia l'ora sia il giorno di vaccinazione e in più lo aiutiamo a scaricare forse quella che è la cosa anche un po' più ho visto io che ho fatto il vaccino un po' più complicata aiutiamo a scaricare il modulo che c'è da compilare prima di fare la vaccinazione. Sarà sufficiente recarsi in una qualsiasi parafarmacia della propria zona portando con sé oltre alla mascherina chirurgica o FFP2 la propria tessera sanitaria ed il proprio numero di cellulare utile per le comunicazioni. Abbiamo più volte chiesto alla regione di poter partecipare alle campagne che affiancando i farmacisti perché noi comunque siamo farmacisti di poter partecipare alle campagne dei tamponi alle campagne dei test rapidi la regione a tuttora non ci ha preso in considerazione ma la nostra risposta la nostra proposta rimane sempre valida necessario da parte nostra che siamo dei professionisti della salute in quanto laureati in farmacia e quindi farmacisti di aiutare in tutti i modi la comunità e di aiutare in questo momento anche appunto a svolgere il prima possibile tutte quelle che sono le possibilità per risolvere il prima possibile questo problema del Covid.